Ciao a tutti, sono Monica Sirelli dal suto www.eft-nazione.it e dal canale YouTube EFT-nazione e parliamo oggi della paura. Ho deciso di riaffrontare questo argomento, anche se c'è già un video relativo alla paura che è piuttosto uno dei primi video che ho postato su YouTube, poi piuttosto vecchio, perché mi accoro che molte delle persone che incontro, delle persone che vedo, delle persone anche con le quali mi capita di relazionarmi, hanno una serie di reazioni che apparentemente sono fra loro differenti e slegate, ma in realtà hanno un comune denominatore che è la paura. Paura come base di una serie di altre emozioni che possono essere la tristezza, possono essere la rabbia, possono essere il controllo, possono essere l'insicurezza, possono essere un senso di inadeguatezza. Ci sono varie forme, delle forme di attaccamento, delle forme di bisogno, che nascono tutte da una profonda paura e quindi da una profonda mancanza di fiducia nella vita. Quindi vorrei oggi che noi lavorassimo proprio insieme su questa tematica che è così collettiva. Siamo anche in un momento storico dove la paura è molto esaltata anche dai mezzi di comunicazione, dove c'è terrorismo perfino sul meteo, cioè ogni situazione ha una collocazione, ha una forma di intensità relativamente proprio alla paura. Cioè quindi è una vibrazione che non solo è potremmo dire nostra, ma anche una vibrazione che abbiamo ereditato, come sapete, a livello familiare, ma che abbiamo anche come ambiente respirato e preso. Quindi questo è un video che andrebbe fatto ciclicamente per alcuni giorni per riuscire a snodarla, ma soprattutto anche per riuscire nella vita di tutti i giorni a tenersi puliti, tenerlo fatto almeno una volta a settimana. E la paura che cos'è? La paura è una forma energetica, cioè noi abbiamo energia vitale che assume forme, forme della gioia, forme dell'allegria, forme dell'amore, cioè nutriamo diciamo alcune situazioni e come dice qualcuno nutriamo anche dei demoni, cioè nutriamo degli angeli, dice qualcuno, e dei demoni in noi. Quindi quello che noi decidiamo di nutrire dipende molto da noi, ma a volte è un automatismo che abbiamo appreso all'interno di un sistema familiare e sociale molto pro paura. Quindi direi di lavorare su questo e lavorare anche su come pensiamo di aver bisogno della paura, dell'attaccamento alla paura. Quindi non è solo una risposta realmente a una situazione ambientale, come già sappiamo il 90% delle situazioni in cui abbiamo paura e di cui ne abbiamo paura non si manifestano nemmeno. Quindi partiamo proprio da questo lavoro su di noi, per recuperare tutta l'energia che è contenuta in questa paura e che ci serve per altre cose, perché fortemente sostenere queste strutture ci consuma molta molta energia. Quindi partiamo dal punto karate, quindi anche se io provo paura, a livello mentale, del centro mentale, cioè sotto forma di pensieri di paura, a livello emotivo, cioè sotto emozioni, sotto l'aspetto di emozioni di paura, a livello motorio, quindi azioni di paura, mi amo e mi accetto completamente e profondamente. E smetto di respingere questa paura, smetto di proiettare all'esterno questa paura e mi assumo la responsabilità di questa paura che provo in me. Fate un respiro sopra la testa, smetto di aver paura della paura e quando sento la paura, anziché mandarla via, anziché rifiutarla, la ascolto, cioè la osservo e mi disidentifico. Quindi centro dell'occhio, io sono e da questo stato in cui sono, quando arriva la paura, mi disidentifico. Azione 1, respiro. Lato dell'occhio, sento la paura nel corpo senza nutrirla. Quindi disidentificandomi, la osservo e smetto di nutrirla. Azione 1. sotto l'occhio, azione 2. La osservo e osservandola recupero tutta la mia energia vitale rimasta congelata sotto forma di paura e la riconduco al giusto posto in me. Fate un respiro. ancora un respiro. Andate sotto il naso, quindi arriva la paura, mi disidentifico e recupero l'energia che contiene. respiro sotto la bocca. Azione 3. Allontano tutta l'energia non mia, legata a questa paura che non mi appartiene. tutte queste percezioni che creano paura che non mi appartengono da ogni mia cellula, da ogni mio corpo e da tutto il mio spazio personale. E le rimando al vero posto, al vero tempo e al vero sé a cui realmente appartiene. respiro. Clavicola e osservo cosa rimane in me. Io sono il verbo, per mezzo della volontà di diventare consapevole che non ho più bisogno di questa paura. E quindi lascio andare l'attaccamento alla paura. Respiro. Quindi questa è l'operazione 4. Lascio andare l'attaccamento alla paura. Respiro. Sono consapevole che non ho più bisogno della paura. Respiro. Punto del timo. Mi hanno insegnato ad avere paura. Ora io mi rieduco ad avere fiducia. Respiro. Quindi lascio andare il peso della paura. Lascio andare tutte le percezioni in me che sostengono la paura, che creano la paura, che proiettano la paura sotto l'ascella. E lascio che in me emerga la fiducia di chi sono. Respiro. tolgo potere alle situazioni esterne che mi creano paura, riacquisisco il potere, la fiducia in me. sotto il seno, la fiducia in me. E la sento in ogni parte. Tabacchiera. Nel mio centro mentale, nel mio centro emotivo, nel mio centro motorio, vibra fiducia. pensieri di fiducia per me stessa, emozioni di fiducia per me stessa, azioni di fiducia per me stessa, posture, espressioni facciali, sensazioni di fiducia per me stessa, respiro. e ascoltate cosa accade in voi. Gamut, dalla paura alla fiducia. Succede un evento, una situazione, parte la paura in automatico, operazione 1, mi disidentifico, operazione 2, l'apprivo dell'energia, operazione 3, divento consapevole della fiducia che c'è in me. Respiro. Punto della dita, adatto tutti i miei sistemi ai cambiamenti appena avvenuti. Respiro. e quando fate questo esercizio andate proprio a pescare le situazioni che vi creano paura. Fate l'esercizio e poi vi rimettete volontariamente nella situazione ovviamente di non pericolo che vi crea la paura, fino al punto in cui sentite che la paura non c'è più. Grazie, buona pratica.